Benvenuti in Holos. Questo video è un esperimento di coscienza globale. Noi da questa parte che vi parliamo, voi dall'altra che ascoltate, noi formiamo un sistema unitario, un sistema cognitivo che si scambia informazioni, che trasferisce conoscenze, che può evolvere insieme verso una coscienza planetaria. Lo scopo di tutto questo video è quello di creare un'unità tra scienze, arti, spiritualità, una unità che noi chiamiamo paradigma olistico. Ma innanzitutto che cos'è un paradigma? Il paradigma è uno schema collettivo di visione, di interpretazione della realtà. È come una finestra che ci permette di vedere e comprendere noi stessi e le cose del mondo. Finora la nostra civiltà negli ultimi secoli è stata retta da un paradigma dicotomico che ha separato lo spirito dalla materia, che ha separato l'anima dal corpo. Questo paradigma ha creato da un lato una religione più staccata dalla materia fisica e dall'altro una scienza troppo materialista, una scienza capace di creare la moderna civiltà industriale, tecnologica, che ha portato al nostro mondo globale, informatizzato. Ma la stessa scienza, quando ha applicato questo paradigma ai sistemi viventi, all'essere umano, all'ecosistema, ha creato enormi disastri. Ha creato la percezione che il mondo sia semplicemente materia da usare, foreste da tagliare per ricavarne legname, balene da squartare per farne carne, bambini, donne, esseri umani da sfruttare come mano d'opera per far funzionare una gigantesca macchina economica che non può fermarsi. A tutto questo disastro ecosistemico noi rispondiamo con un paradigma olistico, il paradigma basato sull'unità. E questa unità non è solo un pensiero, è una percezione, è la percezione che noi che parliamo in questo momento, voi che ascoltate, possiamo sentire. La consapevolezza di essere una coscienza unitaria, dove corpo, emozioni, energie, mente, coscienza, sono inscindibilmente unite. Quando noi entriamo in questa differente percezione, vediamo la nostra vita in modo profondamente differente, diamo senso al nostro lavoro, alle nostre relazioni e quando applichiamo questa percezione alla scienza, creiamo nuovi modelli che ci permettono insieme di generare una civiltà differente, una civiltà globale, dove scienza, arte e consapevolezza sono finalmente riuniti, una civiltà più pacifica, umana e sostenibile.